Il CDA dell'Opera delle Mura ha approvato e pubblicato il nuovo regolamento d'uso delle Mura di Lucca, un testo che in buona sostanza traccia anche le linee guida della riscrittura del bando per la concessione delle casermette. Ci è voluto sostanzialmente un mese per rivedere, e forse correggere, quelle parti che avevano causato la sospensione del bando con tanto di polemiche che si erano alzate da parte di un gran numero di associazioni. La parola d'ordine non è stata stravolgere l'idea originale, bensì rivedere. L'unica posizione esclusa dal nuovo regolamento è quella del villaggio del Fanciullo, per la quale si procederà ad hoc. Visto il rilevante valore sociale della struttura, si potrà decidere anche di assegnare l'uso gratuito. Per tutti gli altri si procederà tramite bando ed in nessun caso verranno assegnati spazi senza un canone, che però rispetto alla precedente stesura potranno essere dimezzati se il CDA dell'Opera delle Mura riterrà i progetti di rilevanza sociale, culturale e promozionale. La variazione più significativa riguarda invece la durata delle concessioni, che passa da due anni ai possibili otto frutto di un 4 più 4, compresa la possibilità di rifare domanda ma solo per altre sede. Resta il divieto di porre la sede legale nella struttura assegnata, scompaiono invece la quantificazione delle ore di apertura al pubblico, quantomeno nel regolamento d'uso, poter essere specificato nel bando, e l'obbligo di concedere le strutture a due o più associazioni contemporaneamente. Ci sarà infine la possibilità di utilizzare le Mura per pubblicità temporane. L'unica discriminante, oltre ovviamente al parere della sovrintendenza, sarà il decoro. Infatti chi vorrà approfittare della possibilità, Summer Festival compreso, dovrà tenere conto dell'impatto visivo sul monumento e della sua conservazione.